Allora, signori, buonasera. Io, come al solito, mi tocca fare il maestro delle cerimonie, anche se in questa situazione, così, diciamo, familiare, sembra un po' strano, comunque. Oltretutto presentare un personaggio come Dan Creri è sempre un privilegio. Per chi lo conosce bene, risulterebbe inutile una presentazione, ma visto che ci siamo, Dan Creri è uno dei più grandi musicisti americani dal viso di molti, soprattutto per quanto riguarda la tecnica della chitarra, flat picking, condivide le scene molto spesso con grandissimi musicisti americani con i quali ha iniziato la carriera, facciamo dei nomi tra Tony Rice, il multi-half, Norman Blake, Doc Watson, in un disco che ci stava circolando stasera, infatti c'era una collaborazione con Doc Watson e Tantelli, oltre a noi però Beppe Gambetta, che ci piace se non ricordare. Io direi che parlo la musica per se stesso, quindi non c'è bisogno di altre parole, ci sentiamo di ringraziare santissimo i padroni di casa che ci danno questa opportunità di vivere questa cosa così ristretta e così vicina, sia la musica che la musicista, che è una grande persona, al di fuori della sua attività di musicista. Ringraziamo tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 E c'era stato un disco che era diventato un nuovo tutto nel 1996 per tutto il titolo. E vorrei toccare uno dei miei pezzi dell'album che non suona come musica di Christmas, da qui siamo in Giune. Quindi non suona come un'album che non è una canzone che ricorda Natale, visto che siamo musici di Christmas. ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Quando era un ragazzino e cercava di suonare su una chitarra, anzi a forse che aveva bisogno di un momento di ispirazione e di un aiuto. E ritrovò questo aiuto nella musica di Johnny Cash, che era new. You know, artists go through phases, Picasso had his blue period and Johnny Cash had his mean phase. Now we understand that he doesn't do those sort of mean things anymore. He doesn't do all that drinking and he doesn't do all that drinking and fighting and all that sort of thing because so we hear the Lord and June Carter have straightened him out. Now, I'm sure he's a happy. Now, I'm sure he's a happier man, but it's a funny thing. He wrote much better songs when he was in his mean period. And here's one of those. 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 I met her accidentally in St. Paul, Minnesota. And she tore me up every time I heard her grow southern grow. And I heard my dream went back downstream before me. And I followed you to make her her way grow. Well, it took me to St. Louis later on down the bridge. And the trader said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. So I caught her afraid of Memphis, but she just walked on the floor. She raised a few eyebrows and went on down the wall. Yes, she did. I walked and batted down by Baton Rouge, where the queen rolled them off. Take that woman down to New Orleans, New Orleans. Go on and up. The double is down in the gold. She loves you, Big River, more than me. I talked about how to cover up a clear blue sky. And tears I shed from that woman, I love you, Big River. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 ... 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 E ho scoperto perché. È perché la vita è breve. E a portare una di queste chitarre è una cosa più interessante. Giuseppe, con gli pubblici parlanti, io faccio una gioca a questo momento. Quindi, possiamo lavorare via una gioca? Di solito, quando c'è un pubblico inglese, mentre lui accorda, racconto le dante le... se c'è qualcuno... mi fa tanto per lui... So, two young ladies are walking along a little country lane and having a quiet conversation in one evening. Ci sono due signore che camminano una sera e parlano. And suddenly, they're surprised to be encountered by a talking frog. E a un certo punto è molto sorprendente quando una rana che parla, non parla. E la rana dice, chinatevi e io vi dirò qualcosa nell'orecchio. So, one of the young ladies leans down and the frog says, look, confidentially in real life I'm not a talking frog. And the rule is that if you will kiss me right here on my green pimply slimy little nose, I'll turn back into what I am in real life. E se tu mi dai un bacio comunque su questa mia bocca tutta verde, apicciposa, io mi trasformerò in ciò che veramente sono. So, the young lady says, well, will you turn into a handsome prince? La signora che chiede se per caso mi trasformerà in un principe bellissimo. He said, no, not a prince but a flat picking guitar player. No, non mi trasformerò in principe ma in un suonatore di guitarra flat picking. I'm a sort of local hero and I play in a lot of pizza parlors and hang out with my friends and drink a lot of beer. Sono un eroe della zona e sono con i miei amici, però molto a dire. So, the young lady picks up the frog and puts him in her handbag and zips the top real tight. What does she do? She zips the top, puts the zipper on the top and closes the handbag. The frog in the mouth? No, she puts the frog in her bag. Ah, allora lei mette la rana nella borsa e chiude la borsa con la giorniera. They walk on and the other young lady says, aren't you going to kiss him? She says, no, no, he's worth much more as a talking frog. Here are some Irish tunes. o Now I Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.